Negli anni 70 i turisti nel mondo erano circa mezzo miliardo e l'Italia era la prima meta dei turisti stranieri. Poi oggi invece siamo a circa un miliardo di turisti nel mondo ma l'Italia è al quinto posto ed è insidiata dall'Inghilterra e dal Messico. Si presuppone, si prevede che entro il 2030 saranno un miliardo e 800 milioni, quindi una massa enorme che naturalmente tutti i paesi che attraggono turismo vorrebbero conquistare. L'Italia ha delle probabilità, su questo è stata fatta una ricerca commissionata appunto dai deputati, dai senatori della commissione che si interessa di turismo e questa ricerca ha portato a dei risultati molto molto interessanti perché ci fa capire la differenza enorme che c'è tra turismo religioso, turismo balneare, turismo sanitario, turismo manageriale, turismo di porto ma anche tra turismo di grande qualità che comporta spese notevoli da parte dei turisti, turismo familiare, turismo di massa. Su tutta questa serie di problematiche la ricerca ha cercato di far luce e ora se ne discuterà in un convegno ad hoc dove intervengono praticamente i massimi esperti italiani del settore, se ne discuterà il 20 dicembre a Milano.